Ieri 16 novembre è scaduta la terza rata della Tari delle comune di Pesaro ma ci sono tanti dubbi su chi è esentato da questo pagamento, dubbi che sono arrivati in forma di segnalazione anche a diversi consiglieri comunali tra i quali il nostro Michele Redaelli. Sì esatto è proprio così sul tema del bonus Tari c'è tanta confusione chiediamo che l'amministrazione aiuti le famiglie nella chiarezza che spieghi chiaramente cosa ha diritto ciascuna famiglia che ha fatto la richiesta. In questi giorni ma in realtà è almeno un mese che sia io che diversi consiglieri tra cui anche la collega Giulia Marchionni riceviamo tante telefonate di famiglie che chiedono informazioni che non riescono ad avere o non riescono ad avere in modo esauriente. Entro il 30 settembre bisognava presentare i moduli per la richiesta di questo contributo che è un contributo positivo per cui siamo contenti però poi le famiglie non hanno saputo più nulla nel frattempo è arrivata la seconda rata della Tari la terza ieri e le famiglie non hanno pagato seguendo peristocamente le indicazioni date dal comune e ora però si trovano il dubbio di dire non ho pagato sarò o non sarò in graduatoria avrò o non avrò diritto al bonus che il comune in qualche modo avrà. ha promesso dovrò addirittura trovarmi ad essere moroso quindi dover pagare una sovratassa per non aver pagato nelle date delle scadenze previste come funzionerà ecco per fugare tutti questi dubbi che le persone hanno in buona fede avendo seguito quello che il comune ha detto chiediamo che l'amministrazione faccia chiarezza qualche informazione sta uscendo ma ancora frammentarie l'amministrazione ai contatti di tutte queste persone che sono anche parecchie però con una mail con insomma in qualche modo dicano chiaramente cosa queste persone hanno diritto siamo in una situazione con un autunno complicato di tante incertezze lavorative di rincari dei prezzi questa che è una bella iniziativa rischia di diventare un'iniziativa che porta a confusione portiamo chiarezza diciamo chi ha diritto a cosa e aiutiamo le famiglie anche in questo caso. Manca diciamo un feedback di ritorno nel senso come sono arrivati i bollettini dell'Atari dovrebbe arrivare una certificazione di esenzione. Esattamente l'unica cosa che hanno avuto le famiglie è la ricevuta del protocollo di quando hanno sottoposto la richiesta la domanda poi non è successo più niente anche la stessa pagina del sito del comune non è più stata aggiornata i cittadini chiamano in comune le risposte che hanno sì sono di rassicurazioni però non trovando niente scritto nero su bianco mentre il bollettino per il pagamento delle rate arriva e poi le persone si fanno domande e chiedono giustamente che l'amministrazione possa rispondere.